Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, oggi nuova ricetta per le mani perché ovviamente tutti noi stiamo continuando a lavarle e quindi, poverine, almeno le mie mani praticamente si squamano da sole allora, nuova ricetta, più che ricetta, suggerimenti per tenere le mani belle idratate e non farle spezzare soprattutto io sto utilizzando e mi trovo bene col burro di karité ne vado a prendere veramente una piccola noce mi raccomando in questo periodo non fate gli scrub alle mani che facciamo di solito perché già le mani, poverine, sono diciamo in difficoltà già di loro vado a passare il burro di karité veramente corposo quindi se non vi dà fastidio avere qualcosa di corposo sulle mani io vi consiglio proprio il burro di karité e massaggiatelo bene è molto più corposo di una classica crema mani se no potete utilizzare per esempio la crema nivea che come ben sapete è molto corposa infine una volta fatto assorbire bene vado a utilizzare la vasellina che va ad isolare le mani in questo modo si andrete a pulirle e lavarle bene però non si seccheranno perché sono isolate quindi un pochino di vasellina mi raccomando massaggiatela bene sulle vostre mani in questo caso le mie mani si sono nettamente idratate non vedo neanche più quelle pelliccine che avevo prima quindi massaggiate bene e ok questo è tutto mi raccomando iscriviti al canale lascia un commentino qui sotto e seguimi anche sulla pagina facebook e su instagram un bacione ciao ciao